Giovanna Ralli, chi è il marito Ettore come è morto, lavoro, matrimonio, età. Giovanna Ralli, meravigliosa attrice con una brillante carriera alle spalle, qualche mese fa è scesa in pista ballando con le stelle. Lei, infatti, è stata ballerina per una notte e ha totalizzato ben 50 punti. Ma conosciamo meglio. Prima di vederla ancora una volta sul piccolo schermo, questa volta ospite di Verissimo. Da Silvia Toffanin. E scopriamo qualcosa in più sul grande e immenso amore per Ettore Boschi. Lei, immensa diva del cinema italiano, si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all'amore e quel matrimonio durato anno. Ettore Boschi era un avvocato matrimonialista, molto conosciuto e apprezzato a Milano. Nella sua carriera si è occupato di tanti casi, anche quello di Mara Vignier che pare si sia rivolto a lui per delle vicende. E proprio nel salotto della domenica, Giovanna Ralli ha ricordato con affetto il marito, i due sono stati insieme dal 1977 al giorno della morte, cause non note, non si sono mai lasciati. Era stupendo, sono stati 38 anni di matrimonio. Era un uomo speciale, noi ci siamo conosciuti a gennaio e il 14 marzo ci siamo sposati ha raccontato la Ralli. Che dopo di lui ha preferito stare da sola perché Ettore ha lasciato il segno e lei lo ama ancora, lo sente vicino. Grazie. 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 Grazie.